Non ho paura di niente? Non guardo la faccia niente. Hanno calibrato male la polvere da sparo, iniettata nel meccanismo di erogazione dei contanti, all'interno del bancomat della Creval Carifano al Codma di Fano, zona industriale. I malviventi sono rimasti a mani vuote, in quanto il coperchio di plastica che copriva la TM è saltato via al momento dell'esplosione, ma la cassaforte in acciaio ha resistito. Al momento dello scoppio l'allarme era già in funzione, avvisando automaticamente la guardia giurata e la centrale del 113 che ha inviato sul posto delle pattuglie. All'arrivo della mobile non c'erano tracce degli autori che hanno tentato di far esplodere il bancomat, ma le telecamere hanno ripreso i malviventi in azione. Le immagini sono state acquisite dalla polizia e dunque verranno esaminate per cercare qualche indizio utile a dare un nome e un volto agli autori del gesto.